Ciao, allora parto appunto con te Silvio, insomma non è frequentissimo vederti impegnato in un progetto, sia come attore, poi anche come sceneggiatore, hai collaborato, insomma, cosa ti interessava, in che modo poi sei stato coinvolto da questa storia, che è una storia particolare, insomma, un adattamento, una storia americana, in Italia, com'è andata? Il motivo per cui non potevo rinunciare era proprio per l'originalità, per la scommessa che rappresentava questo progetto, per la sua diversità rispetto a tante altre cose, e perché per me sicuramente ha rappresentato una sfida sotto tanti punti di vista, era qualcosa di molto diverso, che usciva estremamente dal tracciato. Peter mi ha coinvolto generosamente anche come sceneggiatore, noi ci conosciamo da diversi anni, io e Peter, in questo caso però ho trovato molto bello il fatto che lui mi volesse coinvolgere, anche appunto in fase di sceneggiatura, nel riuscire a trasportare la complessità di un personaggio e la ricchezza di un personaggio come quello di Stefano, il professore, che nel romanzo di Amidon era estremamente approfondito, estremamente raccontato, e che per le esigenze di copione nel nostro film invece doveva essere più asciutto. Quello che io ho cercato e ho desiderato fin dal primo momento, e che spero di essere riuscito a restituire, è solo l'ambiguità di questo personaggio, la sua estrema doppiezza. È un narcisista e come tutti i narcisisti è un pendolo che oscilla tra una grandeur fasulla e una debolezza estrema. E questo era forse la cosa che come attore, soprattutto, mi ha entusiasmato di più. Ludovica, in qualche modo il tuo personaggio è comunque uno dei più puri, se vogliamo. Insomma, un adolescente che subisce la fascinazione del professore, si parla anche di manipolazione in qualche modo, che è anche un tema tristemente anche molto attuale. Come ti sei addicinata, che cosa dici, cosa hai ritrovato magari anche in questo personaggio, nella sua voglia di sognare, comunque nella sua voglia di libertà, anche nei confronti di genitori con cui non va tanto d'accordo. Sì, credo che sia un rapporto particolare il loro. Credo che lei sia attratta da lui, credo che sia proprio innamorata di lui, ma forse anche lei è molto ambigua, in realtà. Anche interpretandola non lo capisci fino in fondo, perché da una parte c'è tutta la parte della scrittura, lei vuole diventare una scrittrice, spinge verso questa cosa, quindi è molto infatuata e attratta da lui, anche perché lui ci è riuscito. Lui è uno scrittore di successo, lui insegna scrittura creativa nella sua scuola, quindi c'è sicuramente questo fascino per l'uomo più grande, ma c'è il fascino soprattutto per qualcuno che è riuscito nel suo sogno, che poi è anche quello di Angela, quindi sicuramente è ambiguo. C'è un innamoramento smisurato nei confronti di questo personaggio, il personaggio di Stefano, nonostante lui invece vada in contrapposizione di questa cosa, comunque lui non le dà mai sicurezza al cento per cento e anzi è un personaggio appunto molto narciso, quindi comunque di difficile gestione a livello sentimentale. Quindi non capisco nemmeno io questa ambiguità nel mio personaggio, cioè c'è da una parte la voglia di essere innamorata di lui ed essere pura semplicemente e eterea, e dall'altra parte il fatto di arrivare a lui forse tramite appunto il suo desiderio, il suo sogno di rubare da lui un po' di talento, un po' di tecnica nella scrittura, nel poi aprire il suo percorso verso un lavoro futuro. Quindi molto ambivalente, molto ambiguo. Sibio, in qualche modo tu anche fisicamente, anche logisticamente, la sua casa, la casa del tuo personaggio, è un po' al di fuori rispetto alla bolla delle varie case, delle camere, in qualche modo sembra rappresentare anche spazialmente qualcuno che si pone in alto, che guarda magari con senso di superiorità a quello che accade in questi rifugi che sono poi queste ville fuori stagione. Devo dire, ho ragione Mauro a dire che sei uno spettatore di un'attenzione incredibile, perché questa cosa che hai colto te è una cosa che ho sentito dire appunto nelle riunioni di regia, io, Peter e lo scenografo, è davvero una cosa voluta, è una cosa assolutamente ricercata, e tu l'hai colta con grande lucidità. Sì, perché Peter appunto voleva, nella sua messa in scena, proprio raccontare questa ritrosia del mio personaggio, questo suo bisogno di non farsi vedere ma di guardare dagli altri. me lo ha sempre raccontato e descritto come un, appunto, come un vampiro in un certo senso, attratto dalla luce e dalla poverezza di Angela, interessato a prendere quello che deve prendere da questo microcosmo in cui si cala e si lascia andare per un po', sapendo però poi di poter, in realtà desiderando solamente di fuggire da lì. In realtà il mio personaggio ha anche, oltre alle tante amiguità che ha, ha anche questo, cioè il fatto di essere dove non vorrebbe essere, di essere con la testa costantemente altrove, proprio perché la sua ambizione, la sua grandeur, lo porta a sognare sempre posti diversi. È un frustrato da questo punto di vista, perché non è mai soddisfatto di quello che ha e aspira sempre a qualche cosa di più. Ma non lo fa però con il coraggio dell'ambizioso, lo fa come un personaggio di Vikens, lo fa quasi rubacchiando, la vita non ha il coraggio di prendersene a morsi. Senti invece, Ludovica, c'è un altro tema che comunque coinvolge molto il tuo personaggio, che è, anche questo molto attuale, c'è la difficoltà proprio di comunicare, no? Anche all'interno della propria famiglia, le due generazioni, i genitori e la figlia, soprattutto l'incapacità di ascoltare più che altro, no? Cioè alla fine questa bambina che in realtà voleva parlare, poi senza svelare troppo, ma insomma voleva parlare, aveva la sua idea, un suo punto di vista, e però poi alla fine non viene ascoltata. E allora proprio attraverso magari la scrittura, la creazione artistica, cerca invece di porre di fronte i genitori a un interrogativo importante, insomma un fatto importante che riguarda il passato di tutti e tre. Sì, 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 sì. Eh beh, sì, è un po' un modo anche per ricordare lei in prima persona, perché i suoi ricordi sull'accaduto sono sempre stati offuscati da tutte, un po' come succede in questi drammi familiari, da tutti i pensieri di sua madre e quindi da tutti anche i pregiudizi che sono assolutamente correlati a un altro tema del film che è la paura. Quindi sì, cerca di scavare oltre i pregiudizi e di cercare invece di avere una memoria più lucida rispetto all'accaduto e poi ci svela teneramente invece quello che realmente era successo, quindi quello che questa bambina poi cresciuta e diventata adolescente si tiene dentro da tanto, no? Perché quando tu sai invece come sono tutte le cose o almeno pensi di saperlo hai sempre paura di dirlo perché non è la cosa giusta, perché i tuoi genitori ti hanno sempre detto che non era così e quindi riesce, anche lei ha un arco emotivo in questo film perché riesce magari non a chiudere propriamente dal punto di vista sentimentale ma almeno a liberarsi di un suo dramma, di una sua cosa che probabilmente se se la fosse portata dietro ancora sarebbe diventata sempre più ingombrante nella sua vita. Grazie, grazie mille, grazie Silvio. Grazie, grazie a te. Grazie, grazie mille. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao, grazie a tutti.